io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi navi da combattimento in fiamme all'argo dei bastioni di orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannoyzer e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi navi da combattimento in fiamme all'argo dei bastioni di orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannoyzer e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi navi da combattimento in fiamme all'argo dei bastioni di orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannoyzer e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi navi da combattimento in fiamme all'argo dei bastioni di orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannoyzer e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi navi da combattimento in fiamme all'argo dei bastioni di orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannoyzer e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo io ne ho viste io ne ho viste Grazie.